Come diceva Allegri una volta su Twitter, anni fa, hashtag fiuu, fiuu, perché a un certo punto il cuore pensavo potesse mollarmi, all'ultimo poi su quella palla lì che ce ne ha avuto ancora per terra, velenosissima, avevo un po' paura, allora bene, tanti auguri Leonardo Bonucci, tanti tanti auguri Leonardo Bonucci, auguri per i tuoi 35 anni, oggi 35 anni più doppietta che vale la vittoria della Juventus con una Juve che potrebbe festeggiare la Champions da oggi, cioè oggi a seconda di quello che sarà il risultato contro la Roma, quindi vediamo che cosa sarà, bene, bene per il risultato, bene bene bene, bene bene Miretti, bene 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 ancora, bene 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 Bonucci, però ragazzi, ecco, la cosa che mi fa più arrabbiare di questa squadra è di essere arrivati a tre partite alla fine, Genua, Lazio, Fiorentina, più se vogliamo la Coppa Italia, quindi tre campionato più una della Coppa Italia, quattro partite alla fine totali, quattro con ancora dei grandissimi limiti sotto il punto di vista mentale, perché intendiamoci, intendiamoci, qual è stato il problema di oggi? Il problema di oggi è che dopo 15 minuti giocati molto bene, secondo me dalla Juventus, dove eravamo padroni del campo, dove eravamo anche messi bene con il 3-5-2, dove troviamo il gol, dove cerchiamo, dove dimostriamo, dove mostriamo questa voglia di fare la partita, dopo 15 minuti in cui va in vantaggio, avete presente? Guardate, questo è il telecomando della televisione, questo qui è il tasto on-off, l'accendi e la spegni, l'accendi e la spegni, contro una squadra il Venezia, con tutto rispetto per il Venezia, perché oggi ha fatto una partita fantastica, ha fatto una partita fantastica, e ha rischiato addirittura magari a un certo punto di portare addirittura a casa il risultato, che per loro è il pregio del risultato, ma hanno fatto 22 punti in 34 presenza di Serie A, e sono l'ultima classificata, e se la Juventus dopo un quarto d'ora in casa, trova il gol che sblocca la partita, con un dominio assoluto, con dei ritmi alti, che non potevano rimanere quelli, ma potevano essere abbassati anche su leggermente, io non ci credo, non ci credo che la Juventus non sia in grado, non possa continuare a gestirmi a questi ritmi, magari non così elevati, ma anche leggermente meno, fino a trovare il 2-0, dopo 20 minuti che potrebbero semplicemente mettere un taglione netto, perché il Venezia che viene a Torino e si ritrova mezz'ora dopo sotto di 2-0, fa un po' fatica, perché se tu queste partite le lasci con un solo gol di vantaggio contro queste squadre qui, e con questa Juve qui, perché io, lo ribadisco, lo ripeterò, io ho paura di questa Juve, questa Juve di quest'anno non può, non è in grado di gestire il risultato, non lo sa fare, non lo sa fare, l'abbiamo già visto, è una partita in cui abbiamo visto questa cosa, è proprio l'andata contro il Venezia, proprio dove ci fa gol a ramo, e se queste partite qui, e ne ho viste una marea, una quintalata, e una proprio stata col Venezia, non metti almeno due gol di vantaggio tra te e queste squadre, loro la portano sull'1-0, fino a che non riescono a trovare qualcosa, o addirittura fino al novantesimo, perché loro va bene arrivare 1-0 al novantesimo, e poi provano con una palla inattiva, un calcio piazzato, una giocata, un errore tuo, un miracolo, a cercare di portare a casa il pari, e questo è quello che è accaduto oggi, poi noi per fortuna avevamo Bonucci in orario pranzo, più che serata divina, e tutto quello che passava dall'area di rigore veniva calamitato addosso a Leonardo Bonucci, che inzucava e toccava e buttava in rete, apro e chiudo parentesi, con due, due gol dell'eventus che nascono da due palloni, calciati benissimo da Miretti, sia sulla punizione che sul calcio d'angolo, perché Miretti li ha tirati molto bene, una volta beccato De Litt, una volta beccato Danilo, e per beccato intendo proprio cercato, perché anche De Litt la chiama, lì sul secondo palo, e vedo che questa squadra, il Venezia, ha delle difficoltà a marcare i secondi pali, a marcare le palle inattive che arrivano lì, perché ce n'era stata anche un altro paio durante tutte le partite in cui abbiamo cercato proprio quella roba lì, però noi siamo riusciti a fare questo soltanto grazie al fatto che questi due palloni inattivi sono entrati in porta. Poi, Malevlaovic per dire, secondo me, Malemorata per dire, secondo me, oggi non hanno fatto delle grandi partite, e abbiamo rischiato, e abbiamo rischiato, abbiamo rischiato proprio perché noi a un certo punto decidiamo di basta, è sufficiente, il gol l'abbiamo fatto, e questo, e questo, attenzione, perché se io ora vado a vedere, classifica Serie A, attenzione, tempo reale, Juventus, partite giocate 35, gol fatti 54, sono pochi, sono pochi i gol fatti dalla Juventus, e questo nasce probabilmente anche da qui, dal fatto che questa squadra si accontenta, e questa invece non è una partita nella quale ti puoi accontentare, per come si è messa, per come è partita, per come loro ti stanno facendo vedere che probabilmente non riescono a gestirli questi ritmi, allora portati avanti, nel momento in cui inizi questa partita con questi livelli, questi ritmi, portati avanti, dagli il colpo del KO, che senso ha non dare loro il colpo del KO, e aspettare che possano essere loro a tornare in partita, scusatemi, lo so, abbiamo vinto, e sto parlando come se non avessimo vinto, ma penso che queste siano cose che nel percorso di crescita di una squadra in un anno devono venire fuori, mi dispiace vedere che a tre giornate alla fine questo ancora non è stato fatto, questa è una critica costruttiva, è la grande critica costruttiva che secondo me accompagna questa Juve, perché poi ci sono tante cose positive, per dire, secondo me oggi la disposizione con 3-5-2 era buona, un'ottima idea, ma ve lo dico da un po' che questa Juve deve sfruttare gli esterni e non ne ha così tanti, quindi tanto vale che giochi con un centrale in più, che può essere Danilo, che può essere adattato, e un esterno e un esterno che spingano, e oggi per dire Pelligrini, siccome ha spinto tanto, Bernardeschi dall'altra parte un po' meno, cercava di più, di entrare dentro la porta, la vittoria della Juve è giusta, cioè, intendiamoci, la vittoria della Juve è giusta, però il discorso, il ragionamento è, tu sei la Juventus, che molto probabilmente, da qui a breve, ti manca un punto solo, o una non vittoria della Roma, contro il Bologna, va in Champions, dall'altro c'è la squadra peggiore della Serie A, che ha evidenti problemi, e che sicuramente è impaurita a venire a giocare a Torino, apro e chiudo parentesi, questo ha permesso la possibilità di schierare Miretti dal primo minuto, perché qua secondo Allegri è stato intelligente nel ragionare, e a dire, è vero che il Venezia gioca in Serie A, ma è una squadra nettamente in difficoltà, e non dimentichiamoci che Miretti è un calciatore di Serie C, o della primavera, perché questa è la sua esperienza fino ad oggi, oggi invece si fa, non mi ricordo quanti sono, 70 mi pare minuti, in Serie A da titolare con la Maglia della Juventus, grandissima prestazione, e ribadisco, due palloni usciti dai suoi piedi, si sono tradotti negli unici due gol che abbiamo fatto, quindi queste sono le cose positive da portarci a casa, c'è da lavorare tanto, c'è da lavorare tanto, perché posso dire che è una sensazione amarognola, nemmeno agrodolce amarognola, di pensare che a tre partite dalla fine, sì, sei migliorato a livello mentale, perché se ripenso le prime quattro partite di quest'anno, ma non hai fatto tutta questa strada, sei rimasto lì vicino, sei ancora lì aggrappato, ancorato, a una Juve che si merita la posizione di classifica che ha, e nulla più, e da tifoso della Juventus, per me questo è sempre una grande sconfitta, e mi piacerebbe vedere quel qualcosa in più, nelle partite in cui riesci a mettertela su quel binario, e che quindi, banalmente, potevi fare di più, poi abbiamo vinto, sono contento, però dobbiamo cercare di migliorare lì.